ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video bene un po di tempo fa avete visto un video natalizio circa due anni fa ho fatto il mio primo video sui tipi di persone quest'oggi vi propongo un altro video sui tipi di persone questa volta a capodanno realizzato però in collaborazione con martina del canale mi che sicuramente qualcuno di voi già seguirà sto rigirando nuovamente questa intro perché rispetto alla prima che avevo girato non siamo più in due a collaborare ma in tre quindi questo video è in collaborazione con sia stefi channel e sia martina del canale mi vi lascio al video abbiamo deciso insieme alcuni tipi di persone e ciascuno vi farà vedere le proprie idee o meglio le cose che abbiamo pensato insieme ci siamo divisi io so quali farà ma non so come quindi sono molto curioso iniziamo con il primo tipo che quel tipo di persona che non può passare capodanno senza obbligarsi e quindi ci troviamo davanti tipo a una scena del già nello no 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 Capete da ridere Non si si fa nemmeno divertire un po' Poi c'è quel tipo che io ora si scherza Perché io sono il primo a non essere la perfezione canora Però c'è quel tipo che è capodanno a tutti i costi Si deve far vedere Io sono re del karaoke Però magari il modo di cantare Risulta essere una cosa del genere La musica Vogliamo parlare poi dei piaccioni con le battute a effetto no? Come quando fate finta per un attimo che io sia in discoteca Come quando sei in discoteca e... Succede tipo una cosa del genere Oh oh mi senti? Oh ti volevo dire che... Comunque... Sei molto carina eh? Molto carina comunque Pensavo no? Siccome tanto è l'ultima notte dell'anno O una notte speciale no? Siccome le cose che iniziano a capodanno Lurano tutto l'anno Allora... Che ne vieni sti? Ti darmi un bel bacio di capodanno eh? Cosa? Ma anche no Cosa ne dite poi dei pacchi dell'ultimo secondo? Quelli che prima ti fanno prenotare il tavolo Ti dicono che sì sì assolutamente vengo Tenetemi il posto mi raccomando E poi... Oh sì Sì Sono Francesco guarda Niente senti Lo so che siamo al 29 Lo so Lo so perfettamente Però... Io guarda proprio non... Non posso venire Non posso venire Mi è venuta l'influenza di capodanno Sì sì No ti giuro Non me la sono inventata Veramente l'influenza di capodanno Che sfiga eh Che sfiga Ciao 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 Ultimo tipo Forse ad alcuni non farà ridere tanto E in effetti è un'ironia un po' particolare Ma... Ehm... E' quello che ogni anno Ripete sempre La stessa cosa E ti saluta Così Oh Allora ciao eh Ciao E ci sentiamo l'anno prossimo eh Ciao Ciao Bene ragazzi miei Il video è finito Come che mi ero dimenticato di girare l'ultima parte Come noterete le capelli abbassati Io vi invito a passare dai due canali Che hanno collaborato assieme a me Se siete nuovi qui Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video E noi ci vediamo al prossimo Ciao 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 Ciao